Ciao a tutti, siamo quasi all'epilogo del nuovo contratto di lavoro. Ci arriva del testo oggi da parte dell'Aran, è un testo abbastanza corposo e non fa altro che confermare quali erano le grandi perplessità della Cimo e della Fesment. Considerate che dopo dieci anni le aspettative sono elevate. In questi dieci anni abbiamo sostenuto il Servizio Sanitario Nazionale nonostante il forte depotenziamento dal punto di vista finanziario eppure come ben servito ci viene dato un contratto che dal nostro punto di vista è abbastanza peggiorativo. Poi sarà sul campo la busta paga da un lato, l'organizzazione del lavoro dall'altro a dire alla fine la verità e chi aveva ragione. Ad ogni buon fine ci troviamo di fronte ad una penalizzazione delle relazioni sindacali che sono ulteriormente ridotte e quindi creano del disagio nell'ambito dei rapporti tra sindacati e le direzioni generali. Ci troviamo di fronte ad una normativa che è vecchia di oltre dieci anni necessitava di un forte modernamento. Noi l'abbiamo segnalato in virtù non solo delle esperienze negative fatte in questi anni che hanno aperto un enorme contenzioso, ma proprio per questo abbiamo fatto numerosissimi emendamenti che sono stati presi in considerazione in maniera del tutto marginale, della serie si fa così e basta. E poi c'è il problema economico, una rivoluzione nella ripartizione dei fondi che come ho detto più volte penalizza e continua a penalizzare i medici da un punto di vista economico da un lato, ma da un punto di vista anche professionale perché immaginare un unico fondo dove il maggior contribuente è il medico con un'unica carriera dà la possibilità ai direttori generali di far fare una carriera a tutte le professioni sanitarie, secondo poi nella direttiva che vorrà dare la propria azienda, però utilizzando la gran parte dei fondi a carico dei medici. Ma questo non è sufficiente. Tutti dicono che mancano i medici, tutti dicono che non c'è possibilità, che devono assumere pensionati, lavori interinali, addirittura ci vuole l'esercito o i medici militari per poter entrare in servizio sanitario nazionale. Ebbene con questo contratto si continuano a penalizzare i giovani medici, soprattutto quelli che hanno un milio di 5 anni, che hanno una retribuzione di posizione unica di 0 euro rispetto magari al dirigente infermieristio che inizia con 730 euro circa all'anno e con un dirigente sanitario di 303 euro. Ora non sono i 300 euro e i 700 euro, però la totale essenza di un salario di accesso nella retribuzione di posizione diventa veramente pesante per un giovane medico che poi a questo punto deciderà di andare a lavorare nel privato o di andare all'estero. Sono penalizzate le fasce più basse della professione medica, qualora che non hanno la possibilità di fare una carriera, perché il passaggio delle risorse dalla posizione variabile a quella fissa porta inevitabilmente una riduzione della parte variabile a cui attingivano tutti gli altri medici. La busta paga dirà veramente cosa sarà successo, qualcuno avrà qualcosina in più, qualcun altro avrà qualcosa in meno e poi ci saranno tante altre professioni e questo ultimo ci avrà molto ma molto di più. A queste condizioni Cimo Fesmed, ma immagino perché ne ho parlato anche Ampo e Ascoti, hanno grandi difficoltà a siglare un preaccordo. Noi andremo fino all'ultimo secondo del tanto di modificare le cose, ma laddove le cose non dovessero modificare non abbiamo nessuna intenzione di fermare questa boiata di contratto.